C'è qualche rincaro, i prodotti sono i formaggi, i latticini e le farine, le paste, le farine. Un rincarico avete notato di quanto? Di un 10, 20, 30%? Un 25, 30%. Io ho trovato anche su prodotti semplici come possono essere le patate o le cipolle o le zucchine, magari non siamo in stagione, però comunque le ho trovate ai finocchi, le ho trovate molto costose rispetto a prima, per non parlare di altre cose come il caffè. La frutta e la verdura è aumentata, comunque è aumentato tutto, parlando della benzina. Io sono in pensione, quindi non ho figli da mantenere, ma quelli che hanno figli da mantenere è un bel problema. Sul caffè è parecchio? Sul caffè e sulla verdura anche, i detersivi per esempio, anche quelli sono rincarati parecchio, è un problema. Ma anche i fiori, le piante, tutto, le cose più semplici. Il pane, il latte, tutto quanto, poco o tanto che sia, ecco, quindi speriamo in bene perché qua la vedo nera. Cos'è che è aumentato di più? Tutto, tutto, frutta, verdura, tutto. Frutta, verdura di quanto? Allora, se prima pagavo 4,80, adesso andiamo a 5,20, poi dipende dal tipo di verdura che lei vuole comprare. Io faccio anche conto rispetto all'anno scorso, la stagione passata, è rincarato tutto. Poi c'è chi rincara e chi non rincara e lì c'è da farsi un punto di domanda.